La saga dei Forsyth, capitolo dodicesimo, June fa delle visite. In piedi nell'angusto vestibolo, il vecchio Gionion respirava l'aria odorante di incerate e di aringhe che è caratteristica di tutte le rispettabili pensioni balneari. Su una poltrona, una lucida poltrona di cuoio da un foro della quale spuntava fuori un ciuffetto di crine, si trovava posata una valigia nera e il vecchio Gionion vi stava sistemando delle carte, alcuni numeri del Times e una bottiglia d'acqua di Colonia. Egli aveva delle riunioni quel giorno, una alla Globular Gold Concessions e un'altra alla New Colliery Company Limited e si affrettava a partire per parteciparvi. Mai nella sua vita aveva mancato a una riunione. Mancarvi sarebbe stato dar prova che invecchiava e il suo geloso spirito di Forsyth non poteva tollerare un'idea simile. Intanto che egli riempiva la valigia nera, sembrava che i suoi occhi dovessero da un momento all'altro accendersi di collera. Gli occhi di uno scolaro preso a zimbello da un cerchio di compagni luccicano del pari, eppure il ragazzo si contiene per la paurosa certezza di avere la peggio. E il vecchio Gionion si conteneva. Adoprava tutta la sua ormai logorata capacità di dominarsi a soffocare l'irritazione che le circostanze della vita avevano acceso nel suo animo. Dal figlio aveva ricevuto una lettera niente affatto seria. Quel ragazzo si perdeva in generalizzazioni senza capo né coda, come ad evitare di rispondere con precisione alla sua domanda. Ho visto Bosini, gli scriveva, e non mi sembra un criminale. Più conosco gente più mi convinco che a questo mondo non ci sono dei buoni e dei cattivi, ma solo degli esseri ridicoli e degli esseri patetici. Certo tu non sarai del mio parere. Il vecchio Gionion non era affatto di quel parere, e trovava anzi cinico esprimersi così. Non ancora egli aveva raggiunto quel punto della vecchiaia nel quale anche i foresight, spogliati delle illusioni e dei principi che hanno, lungi dal crederci, scrupolosamente coltivati in vista dei loro scopi pratici, rinunciato ad ogni godimento corporale, colpiti al cuore dalla mancanza di qualcosa in cui sperare, rompono le barriere del riservo e dicono cose che non si sarebbero mai sognati di poter dire. In effetti egli non credeva forse più di suo figlio nella bontà e nella cattiveria, però scusandosi di non sapere e di non poter pronunciarsi asserendo che qualcosa doveva pur esserci, avrebbe sostenuto che non serviva niente, per il puro gusto di negare, privarsi dei vantaggi di quella distinzione tradizionale. Abituato a passare le sue vacanze in montagna, benché l'avevo foresight non si fosse mai esposto a nulla di troppo temerario o avventuroso, egli ne era stato appassionato e quando qualche meraviglioso panorama, a proposito del quale il Bedecker notava ripaga della fatica spesa nella salita, gli si era dispiegato dinnanzi agli occhi dopo lo sforzo dell'ascesa, egli aveva certo sentito l'esistenza di un grande, eccelso principio che coronasse le lotte caotiche, i meschini precipizi, gli ironici minuscoli crepacci oscuri dell'umana esistenza. Quelli erano stati forse i momenti in cui il suo spirito pratico aveva rasentato più da vicino la religione, ma ormai erano anni che non si recava in montagna. Due volte, dopo la morte di sua moglie, si era provato ad andarci con June e tutte e due le volte aveva dovuto amaramente convincersi che per lui non era più tempo di escursioni. Così era un pezzo che non provava più quella fiducia in un superiore ordine delle cose che solo la vecchia montagna riusciva a fomentare nel suo animo. Sapeva di essere vecchio e ciò non di meno si sentiva ancora giovane, il che naturalmente lo turbava e a turbarlo e intregarlo c'era anche il pensiero di essere, lui sempre così accorto e così cauto, padre e nonno di creature che sembravano votate al disastro. Nulla aveva da dire contro Joe, nessuno al mondo poteva avere qualcosa da dire contro quel ragazzo così affettuoso, così tenero. Eppure la situazione di Joe era deplorevole e la faccenda di June decisamente brutta. Pareva una fatalità e la fatalità era una cosa che nessun uomo del suo genere e del suo carattere poteva nonché capire tollerare. Scrivendo a suo figlio non aveva a dir vero sperato che ne venisse fuori qualcosa. Al ballo dei Roger si era persuaso di come stava effettivamente la faccenda, non per nulla sapeva vedere chiaro più presto di ogni altro e con l'esempio del figlio sotto gli occhi capiva meglio di qualunque Forsythe come agli uomini sia facile, vogliano o non vogliano, bruciarsi le ali alla pallida fiamma. Nei tempi in cui June non si era ancora fidanzata, egli aveva avuto abbastanza da fare con Aerin per comprendere quanto fascino essa esercitasse sugli uomini. Non era donna cui piacesse flirtare e nemmeno era una civetta, come si ama dire della gente della sua generazione, cui piaceva chiamare le cose in un bonario largo e impreciso modo. Ma era pericolosa, perché non sapeva. E se fosse parlato di qualità innate, di un potere indipendente dalla volontà di lei, avrebbe certo risposto. Storie. Essa era pericolosa. E basta. Così ora voleva chiudere gli occhi sulla cosa. Se era, era. A lui non occorreva sapere di più e non mirava che a salvare la situazione di June unitamente alla di lei pace interiore. Ancora sperava che essa potesse ritornare ad essere un conforto per lui. Per questo aveva scritto. La risposta di June uncavava un ragno dal buco. L'unico risultato che gli sembrava aver ottenuto dal colloquio era indicato da una bizzarra frase. Questa. C'è da credere che ormai si trovi preso dalla corrente. La corrente? Quale corrente? Che nuova maniera di parlare raccodesta? Tirò un sospiro e sistemò un'ultima carta nella valigia. Dopotutto lo sapeva bene che cosa aveva inteso dire Joe con quella frase. June comparve dalla sala da pranzo e lui aiutò a infilarsi il soprabito leggero d'estate. Da come era vestita e dall'espressione del suo faccino risoluto, egli comprese che anche lei sarebbe venuta a Londra. Vengo con te, disse di fatti. Ma chi ti salta in mente? Io dovrò andare dritto alla city e non posso mica lasciarti bighellonare per la città tutto il tempo. Ho da vedere la vecchia Mrs. Mitch. Sempre le tue strambe conoscenze, borbottò il vecchio Julian. Sapeva che era un pretesto, ma non si oppose. C'era ben poco da fare quando June si metteva in testa una cosa. Alla Victoria Station installò una ripote nella carrozza che aveva fatto venire per sé, atto degno di rilievo che testimoniava come egli non fosse afflitto da piccole manie egoistiche. Adesso Cara cerca di non affaticarti, le raccomandò, e Presum Care si fece portare subito alla city. June per prima cosa si recò a visitare in un vicolo di Paddington la sua stramba conoscenza, Mr. Mitch, persona di una certa età che rientrava nel giro delle faccende domestiche. E spesa una mezz'ora ad ascoltare le invariabili lamentele, a rintuzzarle come meglio le riusci possibile, si mise in marcia per Stan Hope Gate. La grande casa vuota era immersa nel buio. June voleva sapere qualcosa, a qualunque costo. Lo aveva deciso. Era meglio affrontare il peggio e farla finita, pensava. Il suo piano consisteva nell'andare anzitutto dalla zia di Phil, Mr. Spaines, quindi, se non avesse potuto riceverne informazioni, da Irene. Che cosa poi potevano fruttare le tale visite non se lo chiedeva neanche. Alle tre si trovò nella Lundi Square. Con l'istinto proprio alle donne nelle cattive contingenze, aveva indossato il suo più bel vestito e muoveva verso la battaglia armata di tutto il coraggio che avrebbe potuto brandire per un'occasione equivalente il vecchio Jolyon stesso. La sua trepidazione si era tramutata in ardore. Mrs. Spaines, zia di Bosini, Luisa di nome, stava impartendo istruzioni alla cuoca in cucina, allora quando June le venne annunciata. Era una massaia in gamba, tanto che Baines poteva dire c'è parecchio di buono in un buon pranzo. Il più e il meglio del suo lavoro, egli lo faceva di fatti dopo il pranzo. Lui aveva costruito a Kensington quella vistosa sfilata di rosse di more che si disputano con tante altre costruzioni londinesi, il primato della bruttezza. Sentito il nome di June, Mrs. Spaines corse in camera da letto e tirò fuori da una scatola in marocchino rosso tenuta sotto chiave in un cassetto due enormi braccialetti dei quali si adornò i polsi che aveva bianchi come latte. Questo perché anche lei possedeva in larga misura quel senso della proprietà che, come abbiamo visto, è la pietra di paragone del forcetismo e il fondamento della più vera morale. Alla sua persona, di media statura e di ampiezza notevole, che rivelava una certa tendenza alla pinguedine, era riflessa dallo specchio del guardaroba in legno bianco e vestiva un abito, confezionato sotto la cura e la sorveglianza dirette da lei stessa, che ricordava per il colore i muri a tempera dei corridoi d'albergo. Ella sollevò le mani per aggiustarsi qua e là i capelli, pettinati alla princesse de Gaulle, e i suoi occhi si riempirono di un'inconscia espressione realistica, come se avessero dinnanzi uno dei più sordi di fatti della vita dal quale si trattava di trarre il miglior profitto. In gioventù le sue guance erano state, secondo si suol dire, di latte e di rose, ma la maturità le aveva ormai abizzite, ed essa si passò al piumino della cipria sulla fronte, mentre di nuovo i suoi occhi si riempivano della dura espressione realistica che tanto la imbruttiva. Posato il piumino si tenne immobile un momento dinanzi allo specchio e sunso un sorriso che le impegnava l'alto e grosso naso, nonché il minuscolo mento che adesso tendeva a scomparire nella pappagorgia e la bocca dalle sottili labbra ricascanti agli angoli. Per non perdere l'effetto così trovato si afferrò in tutta fretta le gonne con entrambe le mani e si mise a scendere di corsa alle scale. Era un pezzo che sperava di ricevere quella visita, le erano giunti all'orecchio certi bisbigli e sapeva che non tutto andava per il meglio tra suo nipote e la fiancée. E da settimane nessuno dei due si faceva più vivo con lei, diverse volte aveva invitato Fila a pranzo e tutte le volte egli si era schermito dicendosi troppo occupato. Così essa si sentiva nel suo istinto allarmata e l'istinto dell'eccellente donna era in materia assai perspicace. Si sarebbe meritata di essere una foresight. E certo nel senso che il giovane Gioio andava alla parola. Lo era. Mi pare dunque il caso di descriverla come tale. Aveva sposato le sue tre figlie in un modo che la gente riteneva superiore a quanto costoro si meritassero. Il suo nome figurava in innumerevoli comitati di associazioni benefiche dipendenti dalla chiesa, comitati per balli, per rappresentazioni teatrali o imprese di vendita. E mai essa lo prestava se non era anzitutto sicura che la cosa aveva trovato la più perfetta organizzazione. Ella, come spesso diceva, credeva necessario impostare le cose su una base commerciale, la giusta funzione della chiesa come della carità e via di seguito consistendo a suo modo di vedere nel consolidare la fabbrica della società. Considerava perciò immorale ogni azione individuale. Solo le organizzazioni collettive avevano diritto di agire, poiché esse soltanto potevano darvi la certezza di far fruttare il vostro denaro. Organizzazione dunque e nient'altro che organizzazione. E su questo punto era proprio degna di essere chiamata, come la chiamava il vecchio Jollyon, un flagello o più specificamente una piantagrane. Le imprese cui essa accordava il suo nome erano in effetto quasi ammirabilmente organizzate, che mentre ancora si trovavano in corso di sistemazione avevano bello e perso ogni carattere di beneficenza e di umanitarismo. Non per nulla Mrs. Baines vi faceva spesso osservare che il sentimento è una deprecabile cosa. Era anche un pochino accademica, come si vede. Codesta grande e brava donna, di cui tanto bene si pensava nei circoli ecclesiastici, funzionava insomma da sacerdotessa nel tempio dei Forsaitismo, ad alimentare giorno e notte il fuoco sacro della proprietà, divinità sull'altare della quale si possono leggere indelebilmente scolpite le seguenti ispirate parole. Nulla per nulla, poco per poco, molto per molto. Quando essa entrava in una stanza, subito si sentiva che qualcosa di solido era entrato e da ciò dipendeva forse la ragione della sua popolarità come patronessa. La gente ama il solido quando ha sborsato dei quattrini e così si guardava a lei quando entrava nella sala di un ballo di beneficenza circondata dal suo stato maggiore, col suo forte naso e la sua vasta persona massiccia rinfagottata in un uniforme carica di oro zecchino. Si guardava a lei come si guarderebbe a un generale. Contro di lei non c'era altro da dire che non aveva un doppio nome. Essere una potenza nell'alta società borghese, i cui infiniti settori circoli hanno in comune il campo di battaglia della beneficenza, sul quale, così piacevole per le gonnelle dei settori più bassi, venire a contatto con le gonnelle dei settori situati più in alto, al sommo della società dalla S maiuscola. Ed era una potenza nella stessa società dalla S minuscola, questo tanto più grande significativo organismo dove i principi, le massime, le istituzioni cristiano commerciale personificate da Mr. Spence avevano corso effettivo, reale e naturale e non già fittizio come nella società dalla S maiuscola. La gente che la conosceva aveva stima di lei come di donna solida che non si sarebbe mai buttata via sinché avesse potuto fare a meno di farlo. Col padre di Bosini, Ella era stata in pessimi rapporti, quel capo scarico figurarsi non aveva mai trascurato l'occasione di metterla in ridicolo. Ora che egli era passato nel numero dei più, Mr. Spence alludeva a lui come al suo povero caro fratello, un uomo così irriverente. Ella accolse June con la caute effusione nella quale era maestra, intimidita quanto poteva permettersi di esserlo una donna della sua importanza religioso commerciale. Quella June, pur esile com'era, aveva un'aria che proprio imponeva. Forse ebbe i suoi occhi senza paura e Mr. Spence accuratamente riconobbe quanta Forsyteria ci fosse dietro quella deliberata franchezza. Se la ragazza non fosse stata altro che franca e coraggiosa, Mr. Spence l'avrebbe giudicata testa calda e disprezzata. Se non fosse stata altro che una Forsyte come ad esempio Francie, Mr. Spence l'avrebbe schiacciata sotto il peso di tutta la sua quantità. June invece per quanto piccola fosse, la metteva sempre un po' a disagio, per cui essa la installò di faccia alla luce. Il rispetto che provava per quella ragazza aveva alle sue origini anche un altro motivo, che troppo pia per nutrire dei pensieri mondani, Mr. Spence sarebbe guardata bene dall'ammettere. Spesso l'era stato dal marito descritto il vecchio Julian come un uomo di grandi mezzi. Questo fatto era la più solida delle religioni che la disponevano in favore della nipote di tanto nonno. In quei giorni essa provava per l'appunto l'emozione con la quale si legge un romanzo che abbia soggetto un eroe e un'eredità. Voglio dire, quell'ansietà nervosa provocata dal timore che per qualche sciagurata distrazione del romanziere il giovane eroe venga a trovarsi infine privato dell'eredità. La sua accoglienza, ripeto, fu calda ed essa vide, così chiaramente come mai fino allora era riuscito di vedere, che la ragazza era davvero distinta e desiderabile. Le chiese notizie della salute del vecchio Julian, un uomo straordinario per la sua età, così diritto, così giovanile. O quanti anni poteva avere? 81? Perbacco, lei non lo avrebbe mai creduto. Ed erano al mare, eh? Bello doveva essere. E June aveva notizie di Phil tutti i giorni, vero? I suoi occhi grigi si fecero più grossi e sporgenti nel formulare quest'ultima domanda, ma la ragazza sostenne il loro sguardo senza batter ciglio. No, rispose, non mi scrive mai. Miss Spence abbassò gli occhi, non aveva intenzione di farlo eppure lo fece, ma le rialzò immediatamente. Si capisce, non ci si può aspettare di meglio da Phil, è stato sempre così. Ah, sempre? Esclamò June. La brevità dell'osservazione arrestò un istante il luminoso sorriso di Miss Spence, la quale, dissimulato il proprio imbarazzo con un gesto vivace, dispiegando a nuovo le sottane, disse. Cara mia, dovete sapere che Phil è la più distratta e stravagante persona di questo mondo. Non si può mica dare importanza a tutto quello che fa e che non fa. Subitanea si fece allora a strada in giù la convinzione di perdere inutilmente il proprio tempo. Nulla avrebbe potuto cavare fuori da quella donna, nemmeno se si fosse decisa a porre una domanda esplicita. Lo vedete voi? Le chiese, rossendo tutta. La fronte incipriata di Miss Spence si imperlò di sudore. Oh, certo che lo vedo, ma non posso dire con precisione quando sia venuto l'ultima volta. È un pezzo che non si fa vivo, veramente. Che volete, così occupato con la casa di quel vostro cugino? Mi hanno detto che bisogna la finisca tamburo battente. Dovremo organizzare un piccolo pranzo per festeggiare l'avvenimento, non vi pare? Venite anche voi. Potrete passare la notte in casa nostra. Grazie, rispose June. E di nuovo pensò che stava perdendo il tempo inutilmente e che decisamente da quella donna nulla avrebbe potuto sapere. Si alzò per andarsene, al che Miss Spence mutò completamente fisionomia. Si alzò anche lei, le labbra contratte, le mani in agitazione. C'era qualcosa che non andava evidentemente ed essa non osava chiederlo alla ragazza che le stava davanti. Esile e dritta, piccola cosa, col suo faccino risoluto, la mascella ferma e gli occhi pieni di risentimento. Essa non aveva l'abitudine di esitare a porre delle domande. Il principio organizzativo, essendo per l'appunto basato sulla facoltà di porre delle domande. Ma la faccenda in questione era così grave che Miss Spence aveva perduto la sua presenza di spirito usuale. Figurarsi che quella stessa mattina suo marito le aveva detto come il vecchio Miss Forsyte doveva possedere un centomila e più sterline. Ed ora ecco la ragazza le stava davanti, tenendole la mano per salutarla e andarsene. L'occasione di averla parente stava forse per sfumare. Chi poteva dirlo? Eppure ella non osava aprire bocca e interrogarla. Con gli occhi accompagnò Jun sino alla porta. La porta si richiuse. E allora lanciando un'esclamazione, Miss Spence si avventò con tutta la sua massiccia persona che si scuoteva di qua e di là ad aprirla. Troppo tardi, già si sentiva il cigolio dell'uscio di sotto. L'eccellente donna rimase come impietrita sulla cima delle scale, con viso atteggiato a una mortificata espressione di collera. Jun attraversò la piazza rapida come un uccello. Sentiva adesso di detestare quella donna che pur aveva trovato tanto buona nei giorni felici. Doveva dunque essere elusa in tutti i suoi tentativi? Doveva sempre sopportare quel torturante stato di incertezza e di sospensione? Ah no, sarebbe andata da Phil stesso, gli avrebbe chiesto che intenzioni aveva. Dopotutto aveva il diritto di saperlo. E risalì a passo di corsa la Sloan Street fino al numero della casa di Bosini. Spinse l'uscio automatico e di corsa si slanciò per le scale. Il cuore le batteva forte da farle male. Quando arrivò al terzo piano si fermò un attimo per riprender fiato e si tenne aggrappata alla ringhiera in ascolto. Ma dall'alto non veniva nessun rumore. Pallida in faccia come una morta salì ancora fino all'ultimo piano. Vide l'uscio col nome di lui sulla targhetta. E la risoluzione presa svanì dal suo animo. Il significato di quello che stava facendo le si rivelò intero. Ed ella si sentì invadere tra un gran fuoco mentre un sudore ghiaccio le inumidiva le palme delle mani sotto la seta dei guanti stivi. Indietreggio, fece per scendere, ma non le fu possibile. Aggrappandosi alla ringhiera si sforzò di liberarsi dall'impressione di soffocare che provava. E guardò di nuovo l'uscio con un disperato coraggio. No, non se ne sarebbe andata. Se ne infischiava di quello che la gente avrebbe potuto pensare di lei. E poi non si sarebbe saputo. Non aveva da sperare aiuto da nessuno. Bisognava si aiutasse da sé. Bisognava vuotasse quel calice. Si fece forza dunque e lasciando di tenersi suonò il campanello. La porta non si aprì e tutta la paura, tutta la vergogna abbandonarono Jun. Suonò una seconda volta, una terza con rabbioso bisogno di strappare una risposta a quella camera vuota. Una risposta che potesse in qualche modo ricompensarla della paura e della vergogna provate. E la porta non si aprì ed essa smise di suonare e si sedette sulle scale prendendosi la faccia nelle mani. Poi scivolò via, fuori, all'aria aperta. Si sentì come se uscisse dall'incomo di una malattia e non desiderava che di trovarsi a casa al più presto possibile. Le pareva che i passanti sapessero dove era stata, che cosa era andata a fare. Ed un tratto vi depose di venire avanti sul marciapiede di faccia, da Montpellier Square, alla volta della sua abitazione. Ella fece un movimento come per attraversare la strada. I loro occhi si incontrarono. Egli si levò il cappello. Passò un onnibus che li nascose un momento l'uno all'altra. Poi dal margine del marciapiede Giun lo vide ancora, durante una tregua del traffico, continuare il suo cammino. E ferma dove era, lo seguì con lo sguardo.